Ciao a tutti ragazzi, oggi parliamo dei nuovi Keyland K4, ovvero lo scarpone d'alpinismo estremo e cascate di ghiaccio del marchio Keyland. Adesso insieme vediamo pregi e difetti all'interno dell'accensione completa. Iniziamo come al solito dalla suola di questi K4, ovvero qui troviamo una Vibram Teton Mount. Una suola estremamente durevole, vi assicuro l'ho utilizzata per un sacco di escursioni ed è praticamente nuova. Una suola comunque dall'ottimo grip che grazie all'inserto nella parte anteriore appositamente studiato per la roccia vi assicuro che ha davvero un ottimo grip anche su roccia bagnata. Quello dove stenta un pochino è il fango. Sul fango si tende un pochino a scivolare ma diciamo che non è proprio il terreno dove è pensato questo scarpone. Dal punto di vista della suola devo dire è veramente fatta bene, durevole, sempre un'ottima suola da parte di Vibram. Passiamo a parlare dell'intersuola perché qui è dove iniziano le tecnologie interessanti. Per quanto riguarda l'intersuola troviamo un classico EVA a doppia densità ed è un'intersuola rigido. C'è proprio rigidissimo questo scarpone, non lo piegherete mai. È un'intersuola comunque che ha una buona ammortizzazione, nel senso che tra tutti gli scarponi rigidi, pensate che per cascate di ghiaccio, con questo ci si può fare anche un avvicinamento un pochino più lungo, anche perché all'interno ha un smart PU, praticamente una tecnologia che va ad irrigidire lo scarpone a temperature più rigide e più fredde e ad ammorbidirlo un pochino nel momento in cui magari abbiamo delle temperature un pochino più umidi. Questo per garantirgli appunto una migliore camminabilità anche nel momento in cui andiamo a fare il nostro avvicinamento. L'intersuola poi, come dicevo, rigido, è perfettamente compatibile con un rampone automatico. Troviamo l'inserto sul tallone e sulla punta e vi assicuro che facendo delle cascate di ghiaccio, soprattutto quando andiamo ad appoggiare di punta proprio sulla cascata verticale, questo scarpone dà un'ottima rigidità, un ottimo sostegno. Passando alla parte superiore della tomaia, iniziamo dal puntale che è naturalmente super rigido. Questo è protetto naturalmente da un fascione di gomma che corre fino al tallone per garantirne anche durabilità, ma per quanto riguarda la durabilità, quello che mi ha sorpreso è la parte superiore della tomaia, che è realizzata con un tessuto diamond veramente molto molto resistente. Vi assicuro, io mi sono ramponato da solo un paio di volte e nonostante ciò lo scarpone non ha nessun segno, quindi veramente molto molto resistente. Poi tutta la parte superiore invece è realizzata con un tessuto più morbido, anche per andare ad alloggiare il piede, che è molto calda. Tutto questo scarpone ha una fodera in Gore-Tex, di quelle super calde, pensate sia per tenere all'esterno l'acqua, ma soprattutto anche per tenere il piede al caldo, e come traspirabilità vi assicuro che è poco traspirante. Se lo utilizzerete in delle giornate in miti in cui la temperatura è sopra lo zero, suderete molto all'interno di questo scarpone. In compenso però ci si riesce ad arrivare a delle temperature veramente molto basse, anche a meno 20 non avrete nessun problema, perché appunto ha una bella imbottitura ed è uno scarpone veramente molto caldo. Per quanto riguarda infine la parte superiore della tomaia, il collarino che va attorno al nostro piede, questo è elastico ma non ha nessuna possibilità di regolazione, quindi se avete un piede particolarmente sottile, potrebbe restare dello spazio in cui potrebbe infilarsi magari della neve. Per quanto riguarda il tallone, questo naturalmente è estremamente rigido, che tende ad istrutturarsi nella scarpetta interna quando arriviamo alla parte superiore del collare, comunque per garantirci una buona camminabilità. E parlando di allacciatura, questa è composta da tre parti. Innanzitutto la parte inferiore che ha un inserto che va a chiudere gli lacci e tenere fissata la pressione che noi applichiamo sui lacci. Abbiamo poi il laccio classico da andare a stringere con il classico nodo per fermare il collo e sempre sul collo troviamo poi anche uno strap che ci permette di chiudere e serrare completamente lo scarpone. Ottimo perché da questo punto di vista, anche se gli lacci sono molto morbidi e tendono un pochino ad aprirsi, questo serraggio col velcro fa sì che lo scarpone non tenda ad aprirsi, come può essere su uno scarpone senza questo tipo di allacciatura. Per quanto riguarda poi il collare superiore, questo ha una forma molto simile a quella che abbiamo visto sull'istellar, perfetto per andare ad alloggiare il piede all'interno senza nessuna difficoltà e davvero, come mi era piaciuto sugli Stellar, mi piace anche su questi K4. Per quanto riguarda la grandezza dell'avampiede, beh, c'è da dire che anche lui è uno scarpone abbastanza stretto. Un pochino meno stretto rispetto magari ad altri scarponi da cascata di ghiaccio, cioè a due millimetri in più, che ci garantisce comunque un maggior comfort, però anche lui è uno scarpone che se avete un piede particolarmente largo dovrete sicuramente andare a prendere mezzo numero se non un numero in più. Arriviamo dunque a capire dove è meglio utilizzarli a che li consiglio. L'utilizzo è pensato per cascate di ghiaccio, creste alpinistiche, canaloni di neve, eccetera, quindi degli utilizzi abbastanza estremi, degli utilizzi sicuramente non consigliati ad un escursionista basic. Questo scarpone da utilizzare se si ha tanta esperienza, se si va in questi tipi di terreni che naturalmente non sono consigliati a chi è alle prime armi o chi si sta avvicinando al mondo dell'alpinismo. E dunque come scarpone direi che è consigliabile ad un alpinista abbastanza esperto. Arriviamo dunque a parlare del prezzo di questi scarponi perché costano 500 euro. Può sembrare tanto, ma vi assicuro che rispetto a tanti scarponi da cascata di ghiaccio è uno dei più economici. Ha un peso inoltre di solo 860 grammi nella taglia 42, quindi è abbastanza leggero per la sua categoria. Perciò sì, io personalmente vi consiglio di acquistarlo perché, come dicevo, è abbastanza economico per essere uno scarpone da cascate di ghiaccio. Ha delle ottime caratteristiche, delle ottime tecnologie, che dire, uno scarpone che veramente mi ha sorpreso tanto e mi è piaciuto tanto. E detto ciò ragazzi, una speranza sia stato esaurante e esaustivo anche per questa recensione. Vi ringrazio della guardata e noi ci vediamo alla prossima. Ciao!